Ciao a tutti sono Titan e da oggi vi avviso che non ci sarà più questa intro che ho appena detto ovviamente perché vaffanculo mi sono rotto il cazzo perché sembrano dei video standardizzati come quelli d'Oriambe, bastardo d'Oriambe ti odio e quindi d'ora in poi inizierò subito con la recensione senza far tanto c'è di rock di cosa parlo e vabbè via arriviamo all'argomento di oggi che è Once Upon a Time in Hollywood, c'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, il nono film di Quentin Tarantino molti l'hanno definito lento, alcuni sconclusionato, altri l'hanno bocciato dicendo che un flop è il peggior film del regista cazzate, 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 sono delle stronzate perché il citazionismo che Tarantino spara dentro ogni film sarebbe già sufficiente a sovrastare il 90% delle pellicole uscite in quell'anno, non solo nel 2019 in generale, già solo quello perché questo non è un film, perché questo film non ha uno scopo perché non ha una trama lineare come, non so, può essere un film, il classico film d'azione sono i personaggi, ci arriva un nemico si scontrano con il nemico, perdono, capiscono come batterlo, lo battono finito il film, si ci sta nel senso io dire vai lì, ti fai un'ora e mezza, due leggere, ti diverti magari in quella famiglia, poi torni a casa soddisfatto no, questo non è un film così, non torni a casa soddisfatto torni a casa arrabbiato, perché magari non ci hai capito niente ma in realtà è un gran film non sto a esaltarlo dal punto di vista registico, tecnico perché sinceramente non ne so niente o comunque ne so abbastanza poco e non c'è bisogno sicuro che io, uno youtuber qualunque da 25 iscritti, esalti quel genio di Tarantino è un film che non... è un film bello bello, molto bello, bellissimo, fantastico è un capolavoro, un capolavoro sì, un capolavoro, vaffanculo questo termine si abusa troppo spesso ma questo film è un cazzo di capolavoro perché non ha uno scopo cioè lo spettatore arriva lì, vede i personaggi dice qual è lo scopo dei personaggi dove vuole andare a parare Tarantino la cosa bella è che lui non vuole andare a parare da nessuna parte i personaggi non hanno un obiettivo specifico cioè lui quando narra la storia non vuole andare a parare su qualcosa non caratterizza i personaggi quindi non è che non approfondisci i personaggi i quali non hanno un vero e proprio scopo a livello narrativo all'interno della storia lui racconta la storia e basta e non mette le... e non mette le fighette lì le tipe giusto per attirare un po' di più gente attirare i segaioli no, mette le tipe proprio crude come sono non tutte make-upate, cazzate varie proprio lui vuole fare... vedere com'è la realtà è un film realistico che dimostra... che fa vedere com'è la realtà e che non sempre c'è una... una fine c'è sempre... c'è... non c'è sempre c'è una fine a volte c'è solo il viaggio è questo che... c'era una volta ad Hollywood vuole solo mostrare... vuole raccontare una storia non una storia che ha una... che ha una fine non una storia che ha un inizio semplicemente una storia e questo è quello che lo rende un gran film vabbè... ovviamente non è la sola cosa che lo rende un gran film anche dal punto di vista tecnico come già detto è eccezionale le interpretazioni sono sia di DiCaprio che di Brad Pitt ma non solo loro sono veramente... sono veramente ottime quindi sì... se non l'avete visto vi consiglio di andare a vederlo più presto perché è un gran film e non credete a quelli che dicono che è il peggiore di Tarantino perché nessun film di Tarantino è il suo peggiore perché ognuno è un capolavoro e sono sicuro che anche il suo decimo e probabilmente ultimo film che da quanto ho detto vorrebbe fare un horror sarà un capolavoro anche quello ne sono certo beh... questa era la recensione c'era una volta ad Hollywood di Quanti in Tarantino noi ci vediamo fra poco con un altro video